Gianluca Tornese Uomini e donne news, Gianluca Tornese nuovo corteggiatore di Sara Gianluca Tornese dopo tre anni torna a Uomini e donne per trovare lamore. A distanza di tre anni dalla sua prima esperienza a Uomini e donne, Gianluca Tornese ha deciso di scendere ancora una volta le famose scale per corteggiare Sara Affifella. Il talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 va in onda da lunedì a venerdì alle 14.45. . In passato ha corteggiato la bellissima Valentina Dallari, ma nonostante sia arrivato fino al giorno della scelta, Valentina ha scelto Andrea Melchiorre. . Durante il suo percorso a Uomini e donne Gianluca ha mostrato un carattere molto dolce e romantico. . A quanto pare, però, questo non è bastato a fare breccia nel cuore della Dallari. . L'ex corteggiatore, dopo la delusione ha deciso di concedersi una nuova opportunità televisiva nel tentativo di trovare stavolta lamore vero. . Gianluca si definisce un ragazzo molto semplice e timido, lui stesso ha ammesso di aver bisogno di tempo per aprirsi e dimostrare che persona è realmente. . Gianluca tornese in cerca di una donna seria, ma capace di farlo ridere ed essere felice. . Poco dopo la scelta Gianluca aveva manifestato il suo pensiero sullamore, dicendo che al giorno doggi bisogna avere fortuna dal momento che non è semplice riuscire a trovare lamore vero come succedeva in passato. . Luca non sembra avere una donna ideale, però più volte ha precisato che desidera trovare una ragazza seria. . L'ex corteggiatore spera di trovare una donna allegra, che sappia stare allo scherzo, ma soprattutto che sia in grado di farlo ridere. . Potrebbe essere questa la volta buona per l'ex corteggiatore di innamorarsi ed uscire dal talk show con l'amore della sua vita. .